Come se avete approdito Vittoria Nordi che quest'anno festeggia il quarsesimo anniversario della Vittoria del Vittoria Europea Seconda posizione per Lars Boom segue la propria lega Le Vittoria europea con l'italia con l'italia con l'italia in seconda è Gianluca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.